Ancrum, il tiro di Cameron Jackson veramente mettere il punto esclamativo su questo inizio bruttissima rimessa, poi riesce a tenere non gira sul perno 4 secondi il tiro da 6.75 di Walderanzi che non va a segno e con tutta la sua pick and pop di Cameron Jackson che si gira adesso, prova a fare tutto c'è cambio accettato da Dincic Jackson arriva adesso, il tiro da 6.75 di Amici rimbalzo ancora l'ennesimo della sua partita con l'assist di Cameron